benvenuti oggi parliamo di cari amici di belsalento.com benvenuti a questo nuovo video io sono giovanni greco e oggi vi presento diciamo un corollario alle ricerche che faccio infatti ho assemblato dei video in cui ho usato il green screen e la riproduzione di stampe 3d sono stampe di beni mobili e immobili del salento e con il green screen con il panno verde potrò mettere queste due tecniche assieme per creare i nuovi video quindi vi ringrazio dell'attenzione e alla prossima insieme Grazie a tutti. Grazie a tutti.